Oggi, 10 aprile 2017, Aldo si trova a Calde. C'è il lago un po' agitato. Guardate il lago maggiore. Aldo, il quadro, 50x70, l'ho portato a Calde, il parco delle Fornaci. Ecco, osservatelo. Vi faccio vedere ancora di nuovo il lago maggiore che oggi non è tranquillo, forse perché sta arrivando un temporale da lontano. Guardate le foglie, le foglie come volano. Che vento, che vento. Il cielo si sta annuvolando, è previsto temporale, ma non penso in questo momento. Calde, parco delle Fornaci. Castel Beccana è il paese situato. È un posto isolato dove la spiaggia è libera. Che tronco, che tronco. Ecco, dietro ci sono le mie montagne che le ho fotografate tante volte. Le montagne a forma di pandoro tagliato, le montagne. Il rumore dell'acqua, lo sentite? Faccio vedere di nuovo il mio quadro. Aldo, ciao, vi saluto.